Amore, come mi chiamo io? Mamma Grazie Gioia, un bacio Oggi ho fatto un video e ho spiegato Florì, oggi ho fatto un video, i video miei su YouTube E ho spiegato questa cosa, che tu devi sposare e chi mi chiami mamma Hai sbagliato, ma è giusto a segretaria lì Ma perché mi piace? Grazie Grazie a tutti Per rendere la partecipazione, mi chiami ci fanno Che cazzo? C'hai capito? Quindi dopo lo vuoi e ti fa? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti